Buon bellissimo evento a Montecatini, ho già conosciuto la sua comunità, è stato bellissimo, tra i miei compagni di squadra, anni 70, c'è la famiglia Martini di Pisa che mi ha già fatto conoscere e sperare questo evento, quindi molto volentieri ho scelto questo invito, vi ringrazio di cuore e vi lascio un lavoro di nuovo a mano.